Ciao a tutti, oggi prepareremo la torta al pistacchio golosa. Il tempo di preparazione della ricetta è di due ore circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, farina di pistacchi, uova, burro, latte, lievito per dolci vanigliato, zucchero, sale, aroma di mandorle e per farcire farina di pistacchi e crema di pistacchi. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e le uova. Ed azionare il bimbi per 6 minuti, 37 gradi, velocità 4 senza misurino. Aggiungere il burro e il latte. ed azionare il bimbi per un minuto a velocità 3. Aggiungere la farina di pistacchi, la farina, il lievito, l'aroma di mandorle e il sale. Ed azionare il bimbi per 2 minuti a velocità 5. Versare il composto in uno stampo da 24 centimetri ben imburrato e infarinato. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 35-40 minuti circa. Fare sempre la prova a stecchino. La torta è cotta, lasciare raffreddare completamente prima di rimuovere dallo stampo e tagliarla formando due dischi. Mettere la crema di pistacchi. Posizionare sopra l'altro disco di torta. Ricoprire la superficie con un sottile strato di crema di pistacchi. Spolverizzare con la farina di pistacchi. Torta al pistacchio corosa. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti! Grazie a tutti!